Giovedì scorso un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un silos che improvvisamente ha ceduto in un'azienda di Ciriano di Carpaneto. Ennesima prova del fatto che a Piacenza, anche nel 2020, si continua a morire sul lavoro. È inevitabile quindi che la commemorazione per le 47 vittime e i 500 feriti della pertite, la fabbrica di caricamento proiettili di via Emilia Pavese, che l'8 agosto 1940 venne sventrata da una doppia esplosione, abbia oggi un significato ancora più forte. Passano gli anni, infatti, ma ancora troppe persone salutano la famiglia al mattino per non fare più ritorno la sera. Così, questo 8 agosto, in cui ricorre anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, in ricordo dei 136 minatori italiani che persero la vita nella miniera belga di Marcinelle nel 1956, diviene occasione per riflettere nella speranza di cambiare le cose, di cambiare il mondo. Queste desiderazze, purtroppo, continuano a succedere e qui bisognerebbe anche da parte del lavoratore prendersi a cura, prendersi a carico della tutela della propria persona, per sé e anche per gli altri. Vengono trascurate ancora diverse cose. Sembra che non riusciamo mai a imparare dal passato, quindi è sempre importante partecipare a queste commemorazioni, a far sentire che ci sono stati dei morti e che a questi morti noi dobbiamo rendere giustizia cercando di avere più responsabilità nel mondo del lavoro e comunque più misure di sicurezza, quantomeno riuscire a far rispettare quelle che ci sono. Nanda Montanari era solo una bambina quando la madre, che all'epoca lavorava alla Pertite, rimase coinvolta nel terribile scoppio. Lei riuscì a cavarsela, ma da quel giorno, ogni anno, le sue figlie, tra cui Nanda, sono le prime a ricordare quel terribile evento. Io ricordo allora che stavo in un campo a giocare, a quell'epoca, e ricordo che con l'amica gli dici guarda che piove la sabbia, veramente una situazione incredibile. E poi abitevamo proprio vicino, a Borgo Trevi, a direi le spalle. E poi così mi raggiunse il papà, le sorelle più piccole, che io sono la più grande, e sempre, ogni anno, siamo venuti qui a ricordare, ecco, sempre.